buongiorno buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi rispondo a delle persone che mi parlano di mangiarsi le unghie le unghie quanta gente si mangia le unghie io mi ricordo quando ero ragazzino alle scuole elementari mi mangiavo le unghie mi sanguinavano le pellicine avevo bruciori mi fa fastidio mi vergognavo anche poi ad un certo punto automaticamente da solo ho smesso di mangiarmi le unghie mentre altri miei compagni continuavano a mangiarsi la pellicina le unghie che più ne ha più ne mette stando molto male bene la mia storia da bambino è durata tanti anni poi grazie al potere della mia mente me ne sono uscito anche se non conoscevo la parola ipnosi oggi può uscire anche con un solo audio mp3 dices dal titolo non mangiarsi le unghie che trovi sul sito alla mia associazione in prologue associati anche per il tuo caro che non vuole essere aiutato funziona basta seguire le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un piccolo alla prova di un idiota il mio scopo non è quello di vendere audio mp3 dices nei miei corsi ho ceduto tutti i miei diritti all'associazione in prologue associati los angeles baby reels il mio unico scopo la mia mission è quella di divulgare il mio metodo e se ti parlo degli audio mp3 dices e non anche delle sessioni online di prosi dices che al momento sono sospese perché sono molto impegnato e pieno di impegno e non ho tempo e perché tramite l'audio mp3 dices posso veramente aiutare te e chi come te anche se non c'è la volontà politica perché funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto l'aiuto di chi che sia o non può ricevere l'aiuto ok come al solito ti prego ti invito a non credere nessuna parola del sottoscritto devi pensare soltanto che l'ipnosi vera professionale con la v maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione ipnosi associati los angeles baby reels e dalla chiesa con papa più o non nel 1847 per cui tutti i santi crismi per essere una scienza ma prima di essere l'ipnosi ascoltami bene è un'arte arte con la maiuscola e tutti sanno dipingere ma non tutti sono artisti se poi non vuoi scaricarti degli audio mp3 dices e può andare anche da un professionista dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola della tua zona sederti e iniziare l'importante che sia lo specialista ascoltami bene del tuo caso che abbia già affrontato casi come il tuo perché anche nel mondo dell'ipnosi vera e professionale esistono i generalisti gli specialisti devi cercare lo specialista che fa per te perché condizio sine qua non è anche la parola cosa dire ok oltre al metodo del metodo di cesso metodo unico al mondo fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel guido quella molla che gli può cambiare la vita vista la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico e alla prossima a 환 wipe weak 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 absolute Gabe